È passata il Senato, spero passi velocemente anche alla Camera, dopodiché sarà a facoltà di ogni ragione chiedere di poter sottoscrivere l'intesa con lo Stato. Ed è esattamente quello che vogliamo fare. In Audi nel presentare la Costituzione nel 48 diceva ad ognuno dovremo dare l'autonomia che gli spetta. Ecco è giunto il momento. La richiesta al Governo delle materie per il Veneto sarà immediata non appena la Camera approverà la riforma Calderoli sull'autonomia differenziata. Voto atteso per la fine di aprile, inizio maggio. Questa la roadmap che Luca Zai ha confermato a margine dell'audizione in Commissione Affari Costituzionali, prodromica la prodo della riforma nell'Aula di Montecitorio. Una volta ottenuto l'ok all'impianto legislativo, la richiesta comprenderà le materie non soggette ai famigerati LEP. Benvenga il fatto che la Commissione Cassese ha definito che 14 delle 23 materie sono, come dice il Ministro Calderoli, leppizzabili. debbono essere sottoposte alle LEP. 9 materie però non lo sono. Organizzazione della giustizia di pace, rapporti internazionali e con l'Unione Europea, commercio con l'estero, protezione civile, casse di risparmio tra le materie immediatamente attivabili, cui Zai non intende rinunciare, in attesa di definire i LEP sulle altre 14, dalla tutela della salute all'istruzione. Un esempio su tutti. Se io potessi decidere di tenere a lavoro i medici che vanno in pensione, diciamo che non basta, ma aiuterebbe a tamponare questa falla di medici che non ci sono. In Italia mancano 50.000 medici e 3.500 di quali mancano in Veneto. Da Gianni Cuperlo del PD la richiesta di introdurre una clausola di supremazia nazionale per Zaia nulla di nuovo. Sulla supremazia nazionale abbiamo parlato, in tutti i modelli federalisti esiste la clausola di supremazia nazionale. Quindi non è una novità e non è neanche un grande risultato dell'eroismo dell'opposizione. In tutti i modelli federalisti esiste la clausola di supremazia nazionale. Non è un'idea barricadera, non è un'idea rivoluzionaria, non è un'idea che va contro l'unità nazionale, come dice qualcuno.